La responsabilità mia adesso andremo a verificare perché c'è stato qui Procò sulla marcatura e secondo è stato un bel contropiede loro su Pallaferma che ci hanno fulminato Niente a dire sono stati bravi No, secondo gol non è un errore nostro, sono stati bravi loro Sono partiti a 5.000 all'ora Più che altro, ecco, sul... no aspetta, quello era il terzo, perdon Non è sbagliato, il secondo gol, il secondo gol è stato un pochino fortunoso Un pochino fortunoso Sul terzo un fallo tattico Era già un monitor Rinaldi Eh ho capito, chiedilo a lui, io a mano in campo io Cioè io glielo ho anche detto ma a mano in campo io Realmente non è stato lì con la testa in quel momento Peccato perché il secondo gol è stato un bel infortunio insomma Passaggio indietro di 30 minuti Succedono cose che succedono